In Italia ci sono due musei dedicati al gatto, uno è a Torino e l'altro a Teramo, nel centro storico di Teramo, in Vico del Pensiero. Un'eccellenza a Teramo questo museo del gatto, gestito in stretta sinergia tra comune e istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e dove tanti visitatori, soprattutto bambini, vengono per apprendere il benessere animale. Il museo del gatto entra di diritto dentro un percorso culturale della città di Teramo. Assolutamente sì, oggi mi permetto di ringraziare l'istituto zooprofilattico, con il quale continuiamo questa collaborazione, che sicuramente porta dei benefici alla cittadinanza teramana. Oggi c'è questo percorso che vede coinvolte le scuole del Teramano in un percorso di conoscenza e quindi anche culturale, di interessamento al tema del museo del gatto e che sicuramente riusciremo a riproporre anche nei prossimi mesi. L'IZS ha quindi in programma di riaprire più volte questo museo del gatto, soprattutto per i bambini? Sì, noi abbiamo iniziato a giugno con Incontriamoci in Piazzetta, dove abbiamo anche presentato ai bambini delle scuole elementari il libro Conosciamo insieme il gatto ragù. In pratica, anche d'accordo con il comune, abbiamo intenzione di avere più giornate adesso, durante anche l'anno scolastico, in cui faremo delle presentazioni, quindi di divulgazione scientifica, soprattutto sul benessere dell'animale, del gatto e anche di altri animali, rivolti quindi ai bambini, sia delle scuole elementari e anche delle scuole medie. La scuola ha anche questa importante funzione di insegnare i bambini a trattare bene e a conoscere gli animali. Conoscere gli animali è una cosa molto importante, noi nel nostro lavoro lo vediamo, il contatto con gli animali, da quella sensazione di serenità ai bambini e non per questo, insomma, spesso in alcuni casi viene applicata la pet therapy, quindi già questo è una conferma, insomma, del bene che gli animali come presenza possano fare ai bambini poi in tutte le fasi della loro crescita, ma soprattutto forse a livello di scuola dell'infanzia e scuola primaria penso che questa presenza sia molto importante. Nel visitare il Museo del Gatto a Teramo sono sorprendenti le nozioni che si apprendono su questo felino misterioso, sulla sua origine e sul suo carattere e anche le ultime superstizioni vengono sconfitte dalla scienza. Lei che è una grandissima amante e conoscitrice dei gatti, ma è vero che il gatto nero porta sfortuna? Assolutamente no, io ho un gatto nero e per me il gatto nero è il massimo della bellezza proprio.